da ritrovati cari amici di angoli sono le 19 quindi come tutte le sere ve lo siete ricordati bene è il momento di stare insieme qui ad angoli anche il momento di ricordarvi quindi la nostra mail lo sapete bene per restare sempre in contatto con la redazione basta scrivere ad angoli chiocciola espansione tv punto it molto importanti gli ospiti di questa prima parte del nostro appuntamento della sera ve li introduco immediatamente io saluto ringrazio michele michelatti ciao michele benvenuto grazie allora tu sei ricercatore per la fondazione malattie del sangue qui c'è molto da raccontare parecchio parecchio e tra poco entreremo proprio nel merito nel dettaglio di tutto ciò non sei solo questa sera qui ad angoli perché con te c'è anche marco brusati ciao marco e benvenuto anche a te ciao debora buonasera a te a tutti gli spettatori che ci sono però mi chiamo dolores comunque va bene lo stesso nessun problema allora segretario generale nel tuo caso di fondazione malattie del sangue allora perché siete qui questa sera perché questo è un argomentone è vero certo certo siamo qui per presentare la che cosa sia la fondazione del sangue malattie del sangue è una fondazione che è nata all'interno dell'ospedale niguarda è nata ormai da quasi da più di 20 anni prima si chiamava associazione malattie del sangue poi parallelamente alla fondazione malattie del sangue nata nel 2008 si è fuse ed è diventato un unico ente che ha per scopo quello di migliorare migliorare ottimizzare il più possibile la cura dei pazienti dell'ematologia del niguarda non limitandosi al concetto di cura medica ma anche di cura diciamo così olistica se vogliamo usare un termine che va molto di moda e che si occupa sia dell'aspetto terapeutico farmacologico clinico eccetera sia dell'aspetto della persona in quanto tale e allora un sostegno psicologico inevitabilmente ti chiedo perché è importante avere ampliato questo raggio di interazione beh innanzitutto perché stiamo parlando di patologie ematologiche quindi stiamo parlando di quelli che vengono chiamati normalmente i tumori del sangue sono principalmente leucemie linfomi e mielomi e si tratta di patologie che colpiscono non solo a livello clinico ma anche a livello psicologico una volta queste queste diagnosi erano praticamente delle condanne a morte oggi per fortuna non più però l'avere ricevere questa informazione una diagnosi di questo genere magari dopo dei sintomi che sono stati sottovalutati o che consistevano magari che so di piccole febbriciattole di altre cose quindi niente che poteva far immaginare una cosa così tanto seria in alcuni casi diciamo così l'insorgete di questa patologia è quasi quasi silenzioso non se ne uno non se ne accorge finché non lo so c'ha una febbre persistente che non guarisce qualcosa l'importante è intervenire il prima possibile e intervenire non significa solo curare ma significa anche prendersi cura del paziente sotto tutti i punti di vista come come spiegavi molto bene Marco vengo invece da te perché insomma abbiamo avuto un quadro un'introduzione della situazione ma come è possibile sostenere la fondazione principalmente la fondazione si sostiene grazie al contributo economico e solidale di benefattori di aziende e in particolare del 5 per mille certo per questo 5 per mille per noi è uno strumento fondamentale ed essenziale che ci permette di portare avanti le nostre iniziative e sostenere i nostri progetti abbiamo da un 15 anni forse di più 17 ideato una campagna creativa di fundraising cioè ovvero quella della raccolta di tappi di plastica e di sughero pertanto cosa succede che alcuni volontari a noi vicini o per che erano parenti oppure per sentito dire ma anche nelle stesse scuole aziende fungono tra virgolette da centri di raccolta anche se non sono i propri centri di raccolta ma sono solamente delle persone che raccolgono questi tappi e li distribuiscono in altre aziende il quale i proventi economici della vendita di questi tappi aiutano le casse di fondazione perché infatti ricordiamo se non ho compreso male che tutto questo materiale recuperato appunto una volta realizzato in determinati modi dà proprio questo ricavo che viene indirizzato alla ricerca biologica dei tumori del sangue dell'ematologia dell'ospedale Niguarda di Milano è corretto? è corretto, di fatti con questi proventi mediamente teniamo conto che se aggira intorno ai 20 mila euro, tra i 20 e i 25 mila euro all'anno ci permettono di sostenere una borsa di studio per un biologo e anche qualche reagente, qualche materiale di consumo Michele quanto ci vorrebbe in più così sollecitiamo gli amici all'ascolto insomma raccogliere più tappi a dare più risorse e quant'altro questa raccolta, questa cifra che Marco ci dice va bene sarebbe meglio averne doppio è un decimo, sarebbe meglio averne molti di più molti di più tuttavia dal punto di vista diciamo così del finanziamento alla ricerca la fondazione malattie del sangue si occupa anche di ricevere, di dragare altri capitali che al momento hanno consentito ad esempio la divisione del dipartimento di ematologia del Niguarda di dotarsi ad esempio di una unità di ricerche cliniche che ha dato alla nostra divisione praticamente un certo tipo di cosa che potremmo chiamare indipendenza scientifica cioè con queste persone, ci sono vari ricercatori clinici, biologi eccetera che si occupano della messa a punto e della raccolta dei dati per le sperimentazioni cliniche parlo di quelle ovviamente ufficiali che passano dal comitato etico eccetera noi siamo in grado di sostenere la ricerca clinica indipendente cioè spontanea che significa non sponsorizzata dalle aziende farmaceutiche che ci dà anche una indipendenza di giudizio, questo ci consente di fare e grazie a questo tipo di attività possiamo anche vantare alcuni successi scientifici, clinici di buon livello ad esempio, non ricordo esattamente l'anno ma credo fosse il 2008 o il 2009 abbiamo pubblicato un bellissimo lavoro su una delle riviste più prestigiose del mondo si chiama Blood, una delle riviste scientifiche parlo più prestigiose del mondo un articolo che descrive la scoperta di un nuovo tipo di leucemia che è stata fatta proprio da noi al Niguarda quindi risultati molto importanti che avete anche condiviso con altri ricercatori hanno sia un background scientifico generale sia un'applicazione a livello terapeutico e insomma intendo dire questo significa che la Fondazione Malattie del Sangue è in grado di aiutare, vorrebbe farlo molto di più e quindi sollecitiamo perché mentre tu Michele ci raccontavi questi risultati importantissimi la regia ci ha supportato e lo sta facendo ancora in questo momento innanzitutto con il sito che potete consultare quindi raccogliere tutte le informazioni eventualmente ricordare poi anche quando arriverà il momento della dichiarazione dei redditi come appunto Marco ha detto il famoso 5 per 1000 può essere una scelta quella di indirizzarlo a loro ma c'è anche un numero di telefono, vi invito a prenderne nota il 329-21-84-217 perché insomma è importante trovare dei volontari sulla zona di Monza, Paesi Limitrofi proprio per la raccolta di tutti questi tappi dei quali abbiamo parlato proprio perché possono essere convogliati in una nuova direzione e il ricavato, come avete ben compreso confluire in una possibilità di ricerca, in una borsa di studio appunto che questa fondazione vuole con tanta determinazione portare avanti perché i risultati possano comunque evolvere sempre più ma detto questo, a che punto stiamo con la ricerca? Beh insomma è una domandona è una domandona, quanto rimaniamo qua? Io respiro molto ampio dal punto di vista della ricerca ematologica e degli avanzamenti ci sono delle grossissime novità che riguardano un nuovo tipo di trattamento che si chiama CAR-T ed consiste praticamente nel prelevare da un paziente un paziente che soffre di alcuni tipi di leucemia prelevare da un paziente i suoi linfociti T ingegnerizzarli tramite, diciamo così, dei virus addestrati in modo che questi linfociti siano in grado di produrre degli antigeni che siano in grado di riconoscere meglio le cellule tumorali e di aggredirle cioè praticamente questi antigeni vengono riconosciuti e il linfocita T si attacca come una calamita alla cellula tumorale questo dovrebbe dar adito a un incremento nei successi clinici e questa è una delle cose per le quali l'ospedale Niguarda si è attrezzato e ha già ricevuto o sta ricevendo l'accredito se ricordo l'accredito da parte del Ministero per poter lavorare usando questo tipo di terapia la CAR-T questo anche grazie alla Fondazione Quindi detto questo perché siamo davvero in battuta conclusiva abbiamo l'ultimo minuto a disposizione ma io già da ora vi invito a tornare perché intanto l'argomento è molto importante e anche tutte queste informazioni sicuramente ci aprono delle finestre informative interessanti In chiusura quindi ad oggi la qualità di cura del paziente a che livello sta? Ottima direi ci sono molte buone possibilità non è solo grazie a Fondazione ma anche grazie ad altre strutture ad altri enti come il nostro che la ricerca continua ad andare avanti se non esiste la ricerca purtroppo non possiamo far nulla Non ci sono tante alternative quindi è importante sostenere la Fondazione Malattie del Sangue è importante perché è anche ecologico raccogliere tutti i tappi per una buona ragione in più come avete compreso perché possono essere indirizzati a questa meravigliosa e importantissima iniziativa per questo io saluto e ringrazio Michele Nichelatti e Marco Brusati per essere stati qui ma rimane un arrivederci a questo punto e quindi diciamoci arrivederci diciamoci arrivederci grazie per essere stati qui grazie anche a voi ma tanto lo sapete che io tra pochi minuti turno grazie a tutti